Oggi parliamo delle tartarughe ninja NECA The Secret of the Who's Si dice così, non so, scrivetemelo nei commenti E benvenuti a tutti ragazzi sul canale di Mamma me lo compri Io sono Samuele e questo canale tratta di unboxing di action figure ma soprattutto di interviste documentarie a collezionisti e artisti di Italia quindi spulciatevi anche le altre playlist Oggi sono qui per parlarvi delle NECA che mi sono arrivate direttamente dall'America e in questo caso sono le nuove tartarughe ninja tratte dal secondo film degli anni 90 e sono veramente belle non sono in vendita in questo preciso istante in Italia o in Europa e adesso vi sto per spiegare come le ho acquistate e dove sono andato a prenderle e recuperarle come si fa perché vi lascio il link anche in descrizione e vi spiego un paio di cose mentre vi faccio vedere anche l'altro blister che mi è arrivato un po' spaccato dalla mamma NECA e poi vi spiego anche come vi arrivano questi blister tra virgolette allora ragazzi come le ho acquistate semplicemente sono andato cioè semplicemente no perché all'inizio era abbastanza tutto incapibile sono andato sul sito della NECA quello americano poi c'è una sezione dedicata all'Europa comunque vi lascio il link in descrizione potete acquistare dei pezzi selezionati da NECA ma non ci sono tutti non c'è tanta roba c'è pochissima roba queste erano andate sold out poi rientro dopo qualche settimana e le ho ritrovate tutto questo accade a novembre le ordino ho preso due copie per ogni BPEC quindi c'ho uno e due e uno e due ho speso circa 250 dollari vabbè più o meno 60-70 dollari a pacco quindi a BPEC le ho ordinate con mia grande soddisfazione esco al checkout e scopro che ci sono solo 7 dollari di spedizione e ci sono 7 dollari di spedizione per un motivo solo perché sono arrivate ben dopo due mesi quindi ci ha messo due mesi in botto contiamo che di mezzo c'è il Natale e tutto il resto vabbè il pacco che vi manda NECA è terrificante le trovate dentro lanciate queste le trovate proprio dentro lanciate così tutte insieme con dentro dei cosi di quelli con l'aria quelli che si gonfiano ma non le impacchettate bene sapete quando comprate dei negozi dite eh fammi l'angolino ma sto cazzo NECA ve le manda proprio così ve le lancio cioè tipo così veramente aperte dalla dogana ed è arrivata la dogana da pagare di circa 17 euro al pezzo 17,63 euro al pezzo quindi un totale io le ho pagate il BPEC l'ho pagato intorno ai 70-80 euro a pezzo io comunque vi lascio il link in descrizione perché in Italia queste non si possono trovare i negozianti non possono venderle perché è illegale semplicemente queste sono copie private perché i diritti funzionano che all'estero tipo in America ci sono i diritti NECA in questo pregiudistante per queste Tartles e in Italia in Europa no quindi non possono essere rivendute questo me lo hanno raccontato vari negozianti quindi ragazzi se le trovate sui negozi in Italia sappiate che comunque non si potrebbero acquistare e soprattutto è concorrenza sleale nei confronti degli altri negozianti io non le caricherò su Shopify perché ho un e-commerce ma vabbè un e-commerce che vabbè tratta robe un po' grosse però se avete bisogno me lo chiedete se volete vedere una comparazione tra queste e la prima serie facciamo che arriviamo a 150 like con questo video e poi vi faccio una comparazione tra la prima serie della NECA delle tartarughe ninja e questa apro la scatola che è arrivata già un po' spaccata ragazzi eh ve lo dico perché non piangete se vi arrivano un po' rotte perché ve l'ho detto io vi ho avvisato infatti vedete che la scatola è un po' rovinata in generale ma me non sono uno di quelli che guarda la scatola quindi tutto molto relativo infatti guardate è anche già è arrivato sfondato si è scollato vedete non so se riesco a farvelo vedere è scollato ok ragazzi dentro la scatola trovate questa sorta di dioramino potete vederlo eccolo qua con le fogne delle tartarughe ninja molto carina alta circa 17 centimetri ve la faccio vedere bene sotto macchina e direi che è una bella tartaruga ninja cosa cambia rispetto alla prima versione sicuramente l'held sculpt e soprattutto anche potete sentire cioè voi non potete sentire questa cosa ci sono rimasto un po' male perché credevo che queste fossero in tessuto come la scala 1.4 non so perché avevo questa credenza stupida e inutile però vabbè pensavo fosse scala 1.4 uguale con questa in tessuto invece ci sono rimasto abbastanza male proprio in questo momento voi non avete visto la mia faccia ma non ero proprio felicissimo Leonardo con la sua bella testolina guardate l'held sculpt sicuramente è dai è venuto molto bene guardate anche i denti il painting no? della faccia cosa ne pensate? cioè non è male raga guardate che figo diciamo che si vede che ci sono sviluppi tecnologici sulla stampa sullo sculpt e su tutto il resto perché rispetto alle prime io noto più dettagli il viso sono molto più espressivi molto belle hanno questa opacità che li contraddistingue poi anche la texture vedete anche la texture sul guscio comunque sempre di un livello molto elevato NECA si applica tantissimo sulle tartarughe ninja perché credo siano sia un cavallo di battaglia loro assolutissimamente quindi molto bella peccato che la testa di Leonardo rimanga un po' troppo verso il basso cioè vedete ha questa posizione che è proprio così verso il basso sarebbe stato carino si potesse alzare un po' spade che vi danno in dotazione classica come le prime mi sembrano un po' più robuste rispetto a quelle della prima serie vi danno anche un paio di maglie di ricambio con una qualità decisamente elevata cioè sono guardate anche dentro tutte le grinze belle belle sono veramente carine per il resto le articolazioni sono come tutte le altre neca quindi abbiamo un'apertura delle braccia non tanto allargabile quindi io starei attento spesso e volentieri poi abbiamo la parte del ginocchio anche che si flette fino a questo punto fino alla coscia e diciamo che come posabilità sono un po' limitate perché un po' dato dal guscio un po' dato dall'altro da altro sono un po' limitate vedete anche il paragomiti da un po' di poca mobilità la testa invece ruota di 360 gradi spaccala subito Samuele eccoci con Raffaello decisamente un health sculpt più interessante rispetto a Leonardo guardate la qualità del viso è veramente altissima neca si è superata questo giro perché ha dato veramente priorità al dettaglio poi ripeto i tempi sono anche cambiati quindi è anche più semplice forse stampare delle action figures guardiamo il painting di tutti questi puntini verdi scuro e anche l'allungamento della testa direi che è stato ripreso molto molto bene bandana sempre in pvc che scende effetto vento ma non in tessuto male molto male questa cosa avrei preferito decisamente altro dietro il guscio lui a differenza di Leonardo si vede tutto quanto perché ovviamente non ha le spade e a questo punto vi direi anche andiamo a vedere bene nel dettaglio guardate le zigrinature del carapace di Raffaello e ragazzi che dire molto molto bella anche la muscolatura io adesso ve le faccio vedere più nello specifico ognuna con qualche dettaglio perché poi alla fine sono tutte molto simili in realtà cosa interessante che nella prima serie questa parte davanti era un po' stortina cioè non è che l'avevano fatta proprio benissimo qua invece sono stati belli simmetrici e funzionano molto molto bene per quanto riguarda le gambe muscolature mi ricorda molto le prime neca direi che forse hanno ripreso ovviamente lo stampo e l'hanno un po' migliorato soprattutto nel viso ma il resto rimane un po' simile alle prime poi comunque arriviamo a 150 like e facciamo un video comparazione tra queste e la primissima serie gli occhi sono belli perché sono lucidini e danno uno sguardo anche per la Tice Photography secondo me sono veramente incantevoli per quanto riguarda invece i size si chiamano size giusto? si non è proprio drittissimo non mi piace molto i size non mi piacciono particolarmente sono un po' un po' un po' così però vabbè ci accontentiamo non lo so c'è qualcosa che non va nei size non lo so qualcosina forse la questa qua più metallizzata non lo so potevano impegnarsi un pelo di più rimangono in piedi un po' più delle altre sì perché hanno i piedi leggermente forse più larghi maniche vi danno per Raffaello con questa forma sempre di qualità molto elevata ma ragazzi non sto a perdere troppo tempo sugli accessori perché comunque questo era quello che cadeva nelle fogne faceva diventare trattarughe svariate fette di pizza un paio morsicate tipo questa qua che è morsicata col salamino piccante e anche questa che è un buco perché immagino possa essere messa da qualche parte questa ce ne sono altre due simili una diciamo senza salame ora ragazzi il turno di Michelangelo e Donatello dietro anche che bellino che è molto molto carino in realtà con questa cosa della pellicola cinematografica collezionale di tutti bello se avessero avuto la bandana in tessuto sarebbe stato molto più carino vabbè ma lasciamo perdere andiamo ad aprire catole vabbè potevano vabbè sì potevano impregnarsi un po' di più però come al solito siamo questi punti vedete come ve li impacchettano bene qui abbiamo una serie di accessori un po' più interessanti in realtà abbiamo il nunciaku sempre due paia di mani a testa a tartaruga andiamo a vedere l'el sculpt anche loro perché mi sembrano fatte molto bene partiamo da Michelangelo con i suoi nunciaku e ragazzi è un po' strano lui è sempre quello più felice più diciamo chiacchierone così però devo dire che questa posizione che gli hanno dato perché se ve la faccio vedere dritta tutte le teste tendono molto ad andare verso il basso non è brutta non è brutta perché vedete anche la parte dei denti è fatta molto molto bene molto decente l'unica cosa questo fattore di avere le teste la testa che tira verso il basso e poi la posizione non si può modificare più di tanto è un po' limitante per la Toys Photography cioè è un po' limitante secondo il mio punto di vista sculpt del viso che in questo caso lo trovo bello 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 da proprio farvenza di Michelangelo che sta combinando qualcosa e andiamo giù sul carapace sul guscio guardate anche frontalmente sempre la simmetria viene mantenuta rispetto alle serie prima è un po' più dritta è un po' meglio e dietro il guscio come tutte le altre texture ovviamente che si vede si tocca e si sente il painting come tutte le altre quindi opacità al massimo non riflettono le luci e le cinture la cintura ovviamente non viene via però vedete com'è fatta allora i nunciaku ve ne danno quattro totali quattro nunciaku due più lunghi e due più corti questi sono più duri una cosa che ho notato subito però che non mi è piaciuta molto vedete io gli ho messo già i nunciaku dentro le sue tasche qua e purtroppo ho notato questa cosa qua cioè questi nunciaku sono pessimi sono perché sono dei props che dovrebbero stare lì dentro ma sono fatti veramente male la differenza proprio qualitativa tipo il cavo nero il cavo nero che di qua non c'è questo è fatto molto bene questo è fatto si vede per stare nella taschina e soprattutto guardate ragazzi è molle cioè questo è veramente molle è una roba un po' che non mi fa molto impazzire in realtà questo potevano farlo meglio perché questo ad esempio è rigido questo deve tenerlo in mano è rigido ma questo qua non è il massimo della vita vabbè per quanto riguarda le gambe sono uguali a tutte le tartarughe ninja quindi anche gli snodi questo buco un po' brutto un po' bruttino questo mi è arrivato un po' ammaccato perché infatti vedete che di qua è un po' meno vabbè niente cosa dobbiamo fare me la tengo così eccolo qua anche Michelangelo lo avete visto sempre alto 17 cm è abbastanza carino due mani di rigambio pure per lui vedete Michelangelo come nella scala 1-4 ha i pollicioni verso l'alto quindi potete fargli mangiare la pizza e dire ok e fare lo sponsor della vostra pizzeria preferita questo bipec questo qua che è un po' diverso da quello di prima e questa che non so ragazzi cos'è una mazza di allenamento cos'è questa secondo voi dal vostro punto di vista che cos'è questa non ho più pallida idea non lo so prima di passare alle ultime fettine di pizza passiamo da Donny Donatello allora Donatello con il suo bastone passiamo da Donatello che tutto bello dritto vediamo se rimane in piedi si rimangono leggermente più in piedi rispetto beh oddio sempre un po' sbilanciate niente bisogna comprarsi le basette comunque Donatello Hells Cup forse il peggiore forse il peggiore tra le quattro non mi fa impazzire comunque la profondità gliel'hanno data sempre col cranio che va verso il fondo lui ha lo sguardo leggermente più dritto rispetto alle altre carino ma preferisco quando hanno la bocca aperta con la dentatura sono belline eccole qua guardate adesso vi faccio vedere anche col bastone in mano ok il bastone può essere utile per tenerla poggiata visto che tanto non ci rimane in piedi può essere utile per quella cosa lì davanti abbiamo la parte del torace con una cinghia perché lui dietro tiene il bastone le sempre paragomitiere come tutte le altre tartaruga ninja un buon painting e un buono sculpt del viso bandana sempre con lo stesso movimento ecco le bandane di ricambio sarebbero state carine visto che non sono in tessuto dietro abbiamo il porta bastone che vediamo quanto è comodo senza bestemmiare gli asini è fatto da due nodini che portano vedete il bastone un po' pessimo perché è un po' molle però vabbè non malissimo però potevano impegnarsi un po' di più su questa cosa per tenerglielo più dritto vedete questo viene giù questo se lo apposate vedete cioè un po' più rigido sarebbe stato carino secondo il mio punto di vista ragazzi io rompo le palle perché dobbiamo trovare il pelo nell'uovo ma in realtà coscia sono abbastanza simili in generale il painting sulle tartarughe vedete sono abbastanza simili a parte per qualche puntino e via dicendo ok allora articolazioni come tutte le le altre ve la faccio rivedere un attimo bene c'è questa parte qua io non ho capito cosa diamine sia credo che sia un pezzo del braccio non lo so raga questo se voi lo sapete scrivetemi credo che sia un pezzo del braccio che ci danno insieme perché a quanto pare mi sembra un pezzo tipo di avambraccio cioè che però io non ho capito perché mi hanno dato questo pezzo cioè a me sembra l'avambraccio non so non so non so non so perché sempre due mani in dotazione per anche il nostro donatello quindi eccole qua sempre comunque fatte bene le mani devo dire vediamo il peghettino come si muove duro bello rigido come Nekasafare solo Nekasafare questa cosa qua e una senza salame vabbè queste raga ve le saltiamo perché c'è nel senso chi se ne frega le vedete in foto intanto perdonate i miei capelli perché sembro quello di Sandman stamattina ma perché ragazzi ho fatto il video perché devo uscire devo correre quindi ho detto però ai ragazzi lo devo far uscire subito devo farglielo vedere perché i tartarughe ninja devono capire se acquistarle o no io ho già visto le differenze rispetto alla prima serie ripeto 150 like per vedere il video comparazione di tartaruga in tartaruga dalla prima alla seconda serie le commentiamo insieme sono belle sono belle cambia un po' di roba le altre il petto è più giallo acceso queste sono più sporche il painting è più curato ovviamente gli anni cambiano quindi la qualità costruttiva sale ma neanche così tanto a parte l'head sculpt che è fatto davvero bene su queste tartarughe ninja tranne su Donatello che non mi fa impazzire il resto anche come accessori è tutto vi danno delle cose carine la posabilità è rimasta sempre un po' un punto critico di Neka perché comunque questo paraginocchio eccetera non hanno studiato un modo per rimetterle in posa in modo carino e soprattutto questa cosa della testa verso il basso per la fotografia non è il massimo poi capisco se tu la guardi frontale la testa è così però se io voglio indirizzarla per fargli delle foto non posso quindi è una cosa un po' fastidiosa sinceramente aspettarsela da Neka così quindi ne vale la pena acquistarle la risposta è io le ho comprate perché sono un gran fan delle tartarughe ninja se le acquistate subito si vi lascio il link in descrizione per acquistarle direttamente dal sito Neka perché ripeto qua in Italia non si possono vendere e nessun negoziante dovrebbe venderle quindi questo l'ho detto anche con sono andato cioè sono andato proprio in negozi a chiedere come mai non ci fossero queste qua ovviamente le metto in vendita ormai sono aperte come potete vedere sono aperte le saranno in vendita su Vinted sono belle tozze quindi ne vale la pena rispetto alla prima serie se avete la prima serie e le trovate a un prezzo decente come le ho comprate io dalla Neka con la dogana e tutto quindi intorno 80-85 euro a B-Pack si va bene se iniziate a trovarle sovrapprezzate 120-130-140 euro a B-Pack magari anche no lasciatele perdere poi comunque andiamo a fare una comparazione ben definita tra le due tartarughe che ce l'ho di là tutte chiuse che me ne sono ricomprate anche questa cosa della fascia io non so perché pensavo fosse in tessuto non so ero straconvinto raga non ci voleva niente a mettergli quel tocco di classe in tessuto come la scala 1.4 e sarebbero state molto più belle anche per sempre ripeto toys photography perché le puoi mettere impostare come vuoi eccetera eccetera queste neanche si muovono quindi boh sì io poi devo sempre trovare il pelone e l'uovo sia chiaro però bisogna avere rispetto anche del collezionista che ama questo tipo di tartarughe belle perché sono belle indubbiamente quindi il mio voto è un 8 e mezzo per la collezione ditemi anche la vostra e grazie per essere stati con me sul canale grazie per aver visto questo video lasciate un like ve lo ricordo condividete questo video nei gruppi tartarughe ninja facebook dove volete perché è importante per noi crescere è importante per il canale crescere per portarvi sempre contenuti nuovi grazie mille ci vediamo alla prossima puntata ciao 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 ciao